eccoci direi che siamo in diretta vediamo se riusciamo a rendercene conto bene vedo la chat scrivetemi pure un messaggio qualcosa per farmi capire che è tutto a posto e che mi sentite forte e chiaro e sono felicissima di essere qui in diretta con voi di essere ancora e nuovamente in diretta e passare del tempo tutti insieme sempre un'occasione preziosa speciale per condividere informazioni e soprattutto per aiutare aiutare condividere informazioni in modo tale che siano di grande beneficio per tutti ecco qui vedo che siete arrivano i primi messaggi quindi sono tranquilla che la mia voce vi arriva forte chiara bene ti ricordo che la questa diretta sarà salvata su questa pagina non appena è finita sarà salvata la ritroverai se la vorrai riascoltare su questa pagina ma dato che siete tanti ad aver chiesto anche che non avete magari facebook e vorreste comunque ascoltare questa diretta la caricheremo domani mattina su youtube quindi potrete ascoltarla anche differita per cui saluto comunque tutti 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 gli ascoltatori sia quelli che sono in diretta sia quelli che ascolteranno in differita bene allora andiamo ad approfondire stasera un tema che normalmente è appannaggio solo del mondo scientifico e degli addetti ai lavori ma sai che a me piace proprio andare a prendere questi temi e cercare di portarli a tutti in modo semplice in modo chiaro soprattutto in modo agganciato continuamente alla nostra vita a quello che possiamo concretamente fare ogni giorno quindi andremo a scoprire stasera quanto può essere utile per noi conoscere meglio le le nostre le proprie impostazioni di fabbrica le chiamo così quello che è la nostra il nostro dna originario e costruire su queste conoscenze andremo a capire perché perché può essere utile costruire su queste conoscenze il nostro stile di vita perfetto per noi stessi è veramente una delle migliori azioni che possiamo fare per personalizzare il nostro stile di vita e sappiamo che come dire mettere insieme rendere sempre più individualizzato e personale il nostro percorso è un po la sfida di tutti gli approcci nutrizionali e sicuramente conoscere il nostro dna e partire anche da lì è la chiave per farlo in modo meravigliosamente utile ma partiamo dall'inizio il nostro codice genetico cos'è sono in qualche modo proprio le nostre impostazioni di fabbrica diverse per ognuno di noi siamo infatti molto simili tra di noi come esseri umani è completamente simili ma ma proprio in questi infinitesimali pezzettini di dna sono minuscoli è proprio lì che risiedono queste minuscole variazioni in grado però di produrre importanti differenze questa è la cosa incredibile sono minuscoli infinitesimali questi pezzettini dna di dna però portano grandi differenze in ognuno di noi e potremmo dire che l'insieme di queste minuscole differenze o potremmo anche chiamare l'insieme di queste piccolissime particolarità va in qualche modo a comporre una mappa dei nostri come li possiamo chiamare perché siano più chiari dei nostri punti forti e delle nostre debolezze influenza il modo in cui il nostro corpo soprattutto reagisce all'esposizione ai molteplici fattori ambientali e condiziona diversi processi all'interno del nostro corpo che sono poi connessi con la nostra salute e la nostra longevità ecco perché andare a conoscere questi minuscoli pezzettini ma così cruciali può fare tantissima differenza ora negli ultimi anni diciamo che il campo della nutrigenetica perché così che si chiama questa branca che combina la nutrizione con la genetica si è evoluto tantissimo ha fatto veramente di grandi passi avanti e è da un po' che mi appassiona ormai diversi anni e soprattutto perché io sono proprio un appassionata delle mappe e nella mia storia c'è mappe che possono riuscire a farci capire cose utili per come funzioniamo le mappe sono come delle interpretazioni utili per capire come noi come funziona il nostro corpo e nella mia negli studi mi è piaciuto tantissimo combinare in modo utile e in modo funzionale gli mie studi delle medicine antiche dai quali avevo ricavato delle mappe incredibili che riguardano proprio la di la le capacità digestive i sintomi e le avvisaglie di infiammazione di disturbi metabolici cioè tutto quello che accade nella nostra vita può essere interpretato grazie a queste mappe che sono risalgono proprio alla medicina ayurvedica e alla medicina tradizionale cinese che sono le due medicine più antiche comparse sulla terra pensate più di 3000 anni fa più di 3000 anni prima di cristo quindi parliamo di 5000 e passa anni fa veramente qualcosa di antichissimo e combinare queste mappe antiche con invece questi studi sulla genetica che diversamente da queste mappe che riguardano un un po come la vita si è evoluta dentro di noi e quindi i sintomi di malfunzionamento di piccoli disturbi di invecchiamento questi invece la mappa genetica ci fornisce le nostre impostazioni di fabbrica come siamo nati quei codici del dna con i quali siamo nati che sono proprio i nostri punti chiave forti o deboli e conoscerli può fare tutta la differenza di questo mondo e proprio la combinazione nella mia esperienza ho visto che combinare la genetica lo stato infiammatorio attuale per il quale è lo stato metabolico attuale per il quale abbiamo queste mappe straordinarie con le quali lavoriamo io e i miei coach e che insegno nella mia academy proprio per interpretare immediatamente lo stato della persona e poterla aiutare a riportare equilibrio all'interno del corpo combinare queste tre cose può essere veramente dirompente e ci può consentire in qualche modo di avere un quadro perfetto ed esaustivo di cosa abbiamo bisogno e di quale sia il perfetto stile di vita per noi così mossa da questa consapevolezza che il dna fosse un po il tassello che mi mancava e da un po di anni che ci riflettevo no ho detto ok dobbiamo combinare questi dati allora ho iniziato a guardarmi intorno e a cercare un laboratorio col quale collaborare per poter preparare un test genetico completo e chiaro perché quando ho fatto il mio primo test genetico ero scioccata cioè era una cosa ci voleva boh ci voleva una laurea in genetica per capirlo e praticamente se effettua un test genetico al di fuori di quello che poi abbiamo creato è sempre difficilissimo interpretarlo spesso ci scrivono di interpretare il test genetico di altri laboratori proprio perché è davvero impossibile trovare un report chiaro completo soprattutto con indicazioni pratiche in genere si trovano dei documenti leggibili per i quali l'interpretazione è quasi impossibile e quindi se lo effettui pieno e carico di speranze e poi ti ritrovi a non poterlo realmente a non poter capire realmente cosa farne nella tua vita concreta di tutti i giorni come porto queste informazioni nella mia vita è molto difficile così ho iniziato a coltivare questo desiderio di creare finalmente un test genetico chiaro di creare un report che fosse veramente comprensibile e subito utilizzabile e soprattutto che mettesse in collegamento proprio l'impostazione di fabbrica con lo stile di vita con le anche consigli proprio nutrizionali e così il mio desiderio è stato esaudito ho iniziato a collaborare con un laboratorio italiano all'avanguardia con il quale abbiamo costruito un test innovativo perfettamente sinergico con i bisogni attuali che vertono tutti sull'aiutare le persone a diminuire l'emergenza infiammatoria e riportare il riequilibrio metabolico quindi abbiamo scelto tutte le voci e tutte le impostazioni di fabbrica che fossero interessanti per questo ecco perché mi sento di dire che questo test è veramente unico e alla fine unico era il miglior nome che potessimo dargli perché è un test completamente innovativo ma prima di entrare nei dettagli di questo test andiamo a vedere meglio che cosa ha fatto questo test per me cosa cosa ha comportato per me fare un test genetico in che modo questa esperienza è stata così dirompente per me che poi mi ha fatto riflettere sull'importanza appunto di renderlo disponibile per tutti per me è stata un'esperienza estremamente preziosa mi ha spiegato un po' tutti i problemi di salute che ho avuto da quando ero piccola e anche tutti i fallimenti degli approcci alimentari precedenti oggi conosco tutti i miei punti grazie a questa mappa genetica conosco tutti i miei punti deboli e le mie necessità e applico le strategie per tenerli sotto controllo e rispondere ad essi nel modo migliore quindi la consapevolezza mi ha aiutato poi a creare il mio stile di vita vi faccio degli esempi concreti per essere ancora più chiara sono stata lo posso dire con molta sincerità una bimba piuttosto malata sempre in preda alle bronchiti all'anemia e alle allergie questi erano i miei problemi principali fino a diciamo fino all'adolescenza ma anche fino a quando esausta non sono andata da un medico miopata e ho chiesto e l'ho implorato di aiutarmi a stare meglio veramente questi tre aspetti erano letteralmente un incubo per me e mi ammalavo tante volte durante l'anno avevo frequenti episodi di mal di testa che era un po' anche il marchio di famiglia ne soffrivano mio padre, mia madre, i miei fratelli quindi il mal di testa era un po' lo spauracchio per un po' tutta la famiglia mi capitava spesso di soffrire di cistite anche con sangue nelle urine quindi era un problema ricorrente e anche un po' invalidante il mio fegato non tollerava immagina un po' non tollerava neanche un grammo di grassi mi bastava anche solo guardare il vasetto del tahin che all'epoca quando avevo iniziato a cambiare alimentazione ero vegetariana quindi quello era il massimo del grasso che mettevamo e già mi sentivo malissimo perché mi appesantiva immediatamente avevo sempre il ciclo molto doloroso quindi spesso dovevo prendere anche dei farmaci per calmare i dolori soprattutto i primi giorni ed ero perennemente in preda alla stanchezza questo posso dire di quando ero piccola e di quando sono stata una ragazza dopo lo sviluppo ho iniziato poi a prendere tanto peso e la bilancia ha iniziato a costituire un incubo perenne per me ecco perché oggi a 60 anni che li ho compiuti la settimana scorsa e con le conoscenze che ho oggi su me stessa mi sento un'energia incredibile molto ma molto più energia di quando avevo vent'anni e ho risolto i miei problemi metabolici finalmente con successo ho trovato la quadra ora perché io soffrivo così tanto e avevo tutti questi problemi quando ho fatto il test genetico ho iniziato a unire puntini come si dice e ho iniziato a capire perché innanzitutto ho scoperto di avere la mutazione mthfr che io non sapevo nemmeno che esistesse questa mutazione e quindi mi sono spiegata perché ho iniziato a studiare la mutazione mthfr che cosa comporta perché saperlo è così importante e mi sono spiegata l'anemia che mi costringeva a fare spessissimo farmaci a fare proprie inizioni di ferro, allergie e difficoltà nel detox che poi sono proprio quindi questa pesantezza del fegato che sono proprio uno tra i problemi principali di chi ha la mutazione mthfr ci torneremo sulla mutazione quindi non ti preoccupare ne parleremo ancora stasera poi ho scoperto adesso ti sto facendo un overview poi entriamo nel dettaglio poi ho scoperto di non reggere minimamente gli zuccheri e mi sono spiegata perché mangiando tanti carboidrati così come facevo da piccola e poi come ho continuato a fare anche quando ho iniziato a mangiare meglio i cereali integrali per me erano la base essenziale della mia alimentazione sarei vissuta solo di quelli quando ero piccola vivevo di pane, di pasta, di pizza, di biscotti vivevo di questo e il test mi ha anche detto che non solo io ho una sensibilità importantissima ai carboidrati per cui per me sono veramente difficili da reggere ma il test mi ha anche detto che sono sensibile ai grassi e soprattutto ai grassi polinsaturi quindi questo vuol dire che per me sono due alimenti per i quali devo stare molto attenta poi ho scoperto anche di avere un'intolleranza genetica al glutine e al lattosio tutti questi parametri metabolici poi che riguardano anche il controllo del peso che sono all'interno del nostro test unico sono per me tutti geneticamente rossi che ridere quando l'hanno visto anche i miei figli ho detto mamma ma tu proprio cioè le tue impostazioni di fabbrica sono veramente tremende, terribili ebbene sì e quindi ho capito perché per me sane abitudini quotidiane sono davvero vitali quando l'ho capito e ho iniziato a prendermi cura di me e a mangiare esattamente come avevo bisogno di fare il mio corpo è completamente rinato il problema è che come tutti i bambini sono stata cresciuta pane, latte, biscotti, pasta e poi ripeto i lunghi anni di alimentazione vegetariana e macrobiotica a un certo punto mi hanno portato ad abusare di semi, di formaggi, di cereali, di soia aumentando a dismisura i disturbi che avevo quando ero bambina ora effettuare questo test genetico mi ha offerto una spiegazione adeguata e mi ha permesso di usare i giusti rimedi in modo tale da essere quello che sono oggi e mi sento in splendida forma, non mi sono mai allenata così tanto non ho la mente così vigile, presente, creativa come in questo momento ecco perché posso affermare che il test genetico può davvero cambiarti la vita ma andiamo a vedere cosa può fare il test genetico Sauton per te questo test genetico unico e andiamo a vedere come lo abbiamo suddiviso perché insieme al nostro laboratorio col quale collaboriamo splendidamente abbiamo deciso di suddividere il nostro test per avere una chiarezza di lettura e di interpretazione proprio ai fini di un report che fosse chiarissimo l'abbiamo diviso in quattro grandi aree di studio scusate sapete che vado ad acqua calda allora la prima area importantissima e davvero difficile da trovare in un test genetico tutta l'area che riguarda il controllo del peso che offre un quadro esaustivo di tutti i fattori genetici connessi con il metabolismo e col peso forma includendo anche la predisposizione al grasso viscerale alla ripresa di peso dopo un periodo magari di ristrettezza di dieta la capacità di perdere peso utilizzando anche lo sforzo fisico perché siamo tutti diversi per alcuni funziona la palestra per altri no ed è importante capirlo ed è importante capire che è collegato alla nostra genetica anche questo e poi i fattori comportamentali ed emotivi che possono innescare condizioni di dipendenza dal cibo più facile rispetto ad altri ecco queste sono tutte le voci che andremo ad analizzare per le quali avremo chiarezza nel nostro report quindi la prima area è proprio quella relativa al controllo del peso poi abbiamo la seconda area molto importante sempre per il lavoro che facciamo anche noi in Sauton che è quello di cercare di aiutarti a rallentare l'invecchiamento a rallentare l'infiammazione e a riportare i tuoi organi in equilibrio ma andiamo a vedere dal punto di vista genetico come siamo messi quindi quali sono i nostri punti forti e i nostri punti deboli quindi la seconda area è proprio collegata a metabolismo e salute si chiama proprio così metabolismo e salute e analizza tutte le variabili genetiche connesse con le più importanti funzioni di organi e sistemi interni e che possono influenzare il nostro funzionamento a breve e lungo termine se non vengono ascoltate e prese in considerazione in questo settore troviamo informazioni cruciali come la positività alla mutazione MTHFR su cui torneremo più avanti poi il rapporto con i due diversi carburanti di base quindi grassi e carboidrati com'è geneticamente il nostro rapporto è molto importante conoscere le nostre impostazioni di fabbrica e poi la predisposizione genetica a infiammazione sistemica e ossidazione e quindi a un invecchiamento cellulare quanto può essere forte per noi questa predisposizione è tanto importante saperlo in modo tale da capire quanto le nostre abitudini possono avere un impatto cruciale nella nostra salute la terza area anche questa importantissima va a guardare il rapporto quindi il metabolismo dei micronutrienti quindi di alcuni micronutrienti essenziali andiamo a valutare dal punto di vista genetico quindi ti ricordo sempre come impostazioni di base come siamo messi se riusciamo ad assorbire queste sostanze facilmente o se abbiamo delle difficoltà se abbiamo delle difficoltà ovviamente abbiamo bisogno di una strategia per sostenere il corpo quindi andiamo in realtà ad analizzare il calcio, il magnesio, la vitamina B12, la vitamina C, la colina che è assolutamente essenziale per la memoria, per il cervello quindi andiamo ad analizzare una serie di sostanze e andiamo a vedere come il nostro corpo geneticamente si rapporta ad esse infine la quarta area è quella che riguarda le intolleranze genetiche dove vengono analizzate le predisposizioni genetiche e le intolleranze e allergie che facilmente ci mettono in difficoltà quindi andiamo ad analizzare glutine, nickel, lattosio e andiamo a capire com'è dal punto di vista del nostro DNA il rapporto con queste sostanze abbiamo incluso anche il nickel proprio perché oggi è un problema diffusissimo quindi andiamo a capire se c'è anche una componente nel DNA che ci orienta in quella direzione come vedi sono tutti fattori cruciali per determinare quindi punti deboli e criticità su cui intervenire praticamente per tempo e con successo perché la cosa più bella è che il DNA non può essere cambiato ma c'è una strada per supportare questi punti deboli come dire sostenerli e per diminuire la loro criticità nella nostra vita quotidiana in modo tale da favorire potremmo dire benessere e longevità e prevenire condizioni problematiche torniamo adesso su questa mutazione MTHFR sai che noi ci muoviamo veramente tanto forse tutte le nostre risorse su questa mutazione credo che siano in cima a tutte le pagine anche di Google proprio perché facciamo un grande lavoro di informazione su questa mutazione perché? Perché è una mutazione che impatta tantissimo sulla nostra vita ed è ancora poco conosciuta da noi in Italia tieni presente che questa informazione altrove è diffusissima da noi quindi se ne si sta iniziando a parlare adesso di questa cosa quindi c'è ancora un bel lavoro di informazione da fare in realtà più che una vera e propria mutazione si tratta di un errore di trascrizione genetica che riguarda più del 40% della popolazione mondiale quindi è molto più frequente di quello che immaginiamo impatta su tante 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 persone ecco perché è fondamentale conoscerla se presente ci impedisce di assorbire tutte le principali vitamine soprattutto pensa un po' acido folico è tutto il gruppo B e i folati di cui è ricco il cibo che mangiamo e che hanno delle funzioni importantissime e benefiche su una serie di attività all'interno del corpo sono fondamentali e se noi abbiamo delle carenze di vitamina B iniziano i nostri sistemi interni ad arrancare per cui in caso di positività a questa mutazione si risulta in qualche modo cronicamente privi di sostanze preziose e allo stesso tempo se le si supplementa senza capire un punto cruciale cioè che non possono essere supplementate così come sono ma devono essere date a noi già trasformate perché il nostro corpo non ha la chiave per poterle trasformare ecco questo è il punto cruciale per capire la mutazione MTHFR purtroppo ancora tanti medici non lo hanno compreso per cui seppure ne hanno sentito parlare non hanno compreso che chi ha la positività alla mutazione non solo non assorbe le vitamine del gruppo B e l'acido folico ma se le prende da un farmaco, da un supplemento, da un integratore rischia di peggiorare la situazione perché? Perché non ha la chiave per trasformarle e quindi se noi assorbiamo acido folico non trasformato o vitamina B12, vitamina B6, tutte le vitamine più importanti del gruppo B senza che siano già trasformate il nostro corpo non solo non li assorbe ma si trasformano in tossine in tossine maggiori da amministrare e questo procura una serie di danni nel nostro corpo quindi mai sia se siamo positivi alla mutazione MTHFR prendere le vitamine del gruppo B senza che siano già trasformate rischio enorme perché purtroppo basta che prendi un normale come si chiamano quei multivitaminici terribili da banco che trovi anche in farmacia dove vuoi che hanno sempre alla base vitamine del gruppo B non trasformate se le prendi diventano un veleno per te o se il medico ti dà l'acido folico perché sei carente giustamente sei carente diventa un veleno per te. Ora questa mutazione impatta in diverse funzioni interne sono ancora in studio ma gli studi sono interessantissimi soprattutto su cuore e circolazione attualmente direi che l'aspetto sul quale ci sono dove più facilmente il tuo medico è informato perché chi ha problemi di cuore gli viene fatta questa analisi per capire se ha positività alla mutazione poi il sistema immunitario ecco perché le mie allergie la tiroide e il fegato e poi ti ricordo l'anemia questi sono gli aspetti più cruciali collegati a questa mutazione sempre più studi però a livello internazionale da noi ancora siamo un po' agli albori ma a livello internazionale tanti studi stanno collegando anche questa mutazione con disfunzioni dei neurotrasmettitori e quindi con l'aumento dello stress e delle patologie nervose che spesso basterebbe come dire comprendere questa mutazione andare a fare le giuste azioni per riequilibrare il corpo per evitare l'incremento di questo stress e delle patologie nervose collegate quindi tutti i fattori analizzati essendo genetici quindi questa mutazione essendo genetica non può essere modificata se ce l'hai ce l'hai non puoi eliminarla perché tutte le cose genetiche non possono essere modificate ma se le conosciamo e se le sappiamo possiamo mettere in campo tutte le azioni necessarie a minimizzare i danni e garantire una funzionalità pressoché normale anche per la mutazione c'è una strategia intera ad hoc per aiutare il corpo a rimanere in perfetta salute un po' oggi ve l'ho già accennata dobbiamo prendere tutto quello che ci serve che ci è carente ma lo dobbiamo prendere già trasformato è assolutamente fondamentale ti prego se sai di essere positivo alla mutazione MTHFR e stai prendendo acido folico ti prego di smettere stasera stessa perché per te è un veleno che ti sta peggiorando la tua salute devi prendere non acido folico ma metilfolato che è l'acido folico già metilato e quindi il tuo corpo lo può assorbire perché ti ricordo che il tuo corpo se ha la positività alla mutazione non può non ha le chiavi per utilizzare l'acido folico quindi non solo ne è carente ma si avvelena se tu glielo dai e poi ci sono altre sostanze che possono sostenere il corpo nel detox nel diminuire l'omocisteina che è una delle voci collegate alla mutazione MTHFR che possiamo testare con analisi del sangue e che ci dà un po' l'idea di quanto questo problema ci sta affaticando sta affaticando le nostre cellule sta come dire aumentando il carico di tossine da gestire e sta pesantendo il nostro corpo facendolo invecchiare prima bene questa desideravo fare un overview anche sulla mutazione MTHFR perché non è l'unica voce del test anzi ce ne sono tantissime ma è sicuramente un'ampia voce interessante anche perché con il test genetico unico testi tutte e due le mutazioni MTHFR e vai a sapere con chiarezza se sono presenti entrambe se ne è presente solo una e poi come studiavamo nella scuola media con i fagioli di Mendel andiamo a vedere se in omozigosi quindi è molto importante come mutazione o in eterozigosi e quindi più lieve come mutazione queste sono le informazioni che ricevi sul test e poi c'è tutta la strategia ben spiegata per prendertene cura ora cosa volevo dirvi stasera perché la cosa più interessante è anche andare a capire quanto può essere collegata questa impostazione di fabbrica quanto può condizionare questa impostazione di fabbrica poi le nostre abitudini di vita e per farlo dobbiamo affrontare stasera un tema anche questo che magari hai sentito parlare ma di cui normalmente se ne parla solo tra gli scienziatri solo tra gli addetti ai lavori difficile avere con chiarezza spiegazioni semplici su questa branca di studi fondamentali che anche questa sta ricevendo negli ultimi anni un input incredibile ed è l'epigenetica andiamo a capire i rapporti tra genetica ed epigenetica e andiamo a capire perché è proprio l'epigenetica a fare la differenza spero nel frattempo che tutto sia chiaro vedo che state facendo già delle parecchie domande ci sono come al solito c'è tutto il team qui ad assostenermi quindi avete diversi coach che sono presenti a rispondervi bene i nostri geni abbiamo capito che sono fissi li ereditiamo dai nostri genitori e non possiamo assolutamente cambiarli però quello che possiamo fare è conoscerli effettuando un test genetico completo e poi una volta che abbiamo fatto questo test ci dobbiamo occupare tenere sotto controllo ciò che è ancora più importante dei geni e cos'è più importante dei geni? è la loro reale espressione nel nostro corpo l'espressione reale dei geni nel nostro corpo è chiamata epigenetica che letteralmente significa al di sopra della genetica cioè la genetica sono le nostre potenzialità di fabbrica sono proprio le nostre come dire sono tante potenzialità l'epigenetica va invece a rendersi conto quali di queste realmente si esprimono nel nostro corpo quindi è fondamentale perché dobbiamo combinarle insieme per avere un quadro esaustivo questo termine epigenetica è stato coniato per la prima volta nel 1942 quindi tanti anni fa dal genetista Weddington un biologo era un biologo genetista britannico che scoprì pensate un poco l'esistenza di questi meccanismi che si collocano sopra i geni e che sono in grado di determinare se questi geni siano realmente espressi o se rimangono un potenziale silente quindi se questi geni realmente poi incidono all'interno della nostra vita o sono solo un'impostazione di fabbrica assolutamente silente di cui noi neanche ci rendiamo conto come ci arrivò? la scoperta iniziale fu che si poteva scoprì osservò che si poteva alterare il torace e le strutture delle ali dei moscerini della frutta modificando proprio la temperatura ambientale e gli stimoli chimici a cui erano esposti questi moscerini quando erano ancora embrioni e così invece di allevare selettivamente le mosche per controllare i geni che avevano ereditato dai loro genitori cosa che in qualche modo avrebbe fatto Darwin Weddington scoprì che bastava solo controllare i fattori esterni il calore, l'esposizione, la luce e che queste cose facevano sì che questi moscerini riuscissero a essere più, come dire, più performanti potevano fare delle azioni migliori o meno buone proprio perché gli avevano modificato la loro struttura interna e questa modificazione non era genetica ma era epigenetica quindi Weddington ha sostanzialmente scoperto che i nostri geni sebbene sono cablati ed ereditati non rappresentano un destino predeterminato piuttosto, come vi dicevo, raccontano sono delle possibilità, sono dei punti deboli sono delle sensibilità speciali vedete quante parole sto usando proprio per chiarirvi ancora meglio questa cosa quindi sono possibilità, sono punti deboli e sono sensibilità speciali che poi possono esprimersi o possono restare silenti a seconda degli input derivanti dalle nostre abitudini e comportamenti quotidiani cioè né più né meno che a seconda del nostro stile di vita è proprio lo stile di vita la chiave perché questi punti deboli queste sensibilità speciali e queste possibilità si passino dall'essere una potenzialità al diventare un'espressione reale il dottor Hyman, uno dei più grossi medici di medicina naturale americana usa una bellissima metafora per descrivere questa cosa dice i nostri geni sono come i tasti di una tastiera sono in qualche modo il nostro hardware per rimanere in una metafora da computer ma la nostra epigenetica è il software che determina l'effettiva codifica di questo hardware e determina il modo in cui queste potenzialità sono poi realmente espresse la stessa tastiera può essere utilizzata per scrivere una tragedia greca o una storia d'amore può essere utilizzata per scrivere un romanzo di Stephen King o una favola per bambini tutto dipende dall'insieme dei progetti che vengono eseguiti ecco perché conoscere la nostra genetica e armonizzare queste informazioni con il nostro stile di vita quindi con le informazioni che ci vengono dalla epigenetica ci consente di attivare i geni che ci mantengono sani e di silenziare i geni che ci fanno ammalare attraverso un processo che è chiamato proprio metilazione del DNA perché è lì la chiave per rallentare il nostro invecchiamento andiamo quindi a vedere questa accensione e questo spegnimento dei geni come funziona se pensiamo, abbiamo detto, ai nostri geni come a una tastiera e all'epigenetica come ai segnali ambientali e di comportamento che determinano la nostra storia che vanno un po' a raccontare quello che realmente accade nel nostro corpo possiamo pensare alla metilazione del DNA perché così si chiama proprio questa funzione come al processo dietro a ogni effettiva pressione del tasto abbiamo la tastiera che è impostata così di fabbrica diversa per ognuno di noi ma il processo con il quale andiamo a premere effettivamente un tasto piuttosto che un altro va poi a influenzare il nostro funzionamento interno né più né meno va realmente a creare questa metilazione del DNA o la rallenta la metilazione del DNA possiamo dire che controlla letteralmente la funzione del nostro DNA dicendo al nostro corpo di attivare o di silenziare un gene ci dà proprio dei comandi funziona aggiungendo o rimuovendo gruppi metilici che avvolgono il nostro DNA quindi vengono aggiunti o tolti affinché questi tasti da stare zitti inizino a raccontare una storia o a suonare una canzone aggiungi un gruppo metilico e i geni vengono silenziati o disattivati rimuovi un gruppo metilico e i geni vengono attivati o accesi così funziona funzionano DNA ed epigenetica quindi genetica ed epigenetica questo processo è fortemente influenzato dalla nostra dieta dalle nostre abitudini dieta è una parola che non mi piace dalle nostre abitudini quotidiane dal modo in cui ci muoviamo dai livelli del nostro stress quotidiano quindi da quello che mettiamo nel piatto ogni giorno dal modo in cui ci muoviamo e da quanto ci muoviamo dai livelli del nostro stress quotidiano dai ritmi del nostro sonno e da ogni altra esperienza che facciamo nella nostra vita quotidiana sono proprio assolutamente interconnessi comprendi ora perché è fondamentale conoscere i nostri geni e poi di conseguenza armonizzare con questi le nostre abitudini quotidiane perché sono assolutamente interconnessi abbiamo delle potenzialità ma per fortuna siamo fatti in un modo tale da avere la libertà e la capacità di poter mettere in atto queste potenzialità o non metterle e se le potenzialità sono punti deboli se li conosciamo li possiamo sostenere o possiamo far sì che loro al contrario si manifestino e ci creino dei problemi ora le scoperte scientifiche come vi dicevo stanno facendo dei progressi incredibili per esempio si è scoperto che persino le coccole cioè proprio l'amore l'amore è proprio pensate alle coccole che si fanno ai bambini influiscono sulla metilazione del nostro DNA alcuni studi hanno scoperto che i bambini che non ricevono abbastanza amore ed affetto sono associati a una minore metilazione nelle regioni del DNA che corrispondono ad alcune zone del cervello dello sviluppo del cervello con conseguente strutture cerebrali che diventano più vulnerabili e che vengono associate a sintomi cognitivi e psichiatrici persino l'amore reale e concreto di tutti i giorni influisce su questo altri cambiamenti epigenetici possono essere apportati attraverso non c'è solo la metilazione del DNA ma c'è un'altra azione interessante che gli scienziati stanno studiando che è la modificazione degli istoni che cosa sono gli istoni? sono le proteine strutturali che danno forma ai cromosomi il nostro DNA li avvolge completamente tuttavia quando i nostri istoni e il nostro DNA sono avvolti in modo troppo stretto è come se i nostri geni non riuscissero ad essere letti e in qualche modo vengono disattivati in modo estremamente problematico è come se avessimo un pugno stretto e in mezzo a questo pugno stretto il nostro DNA è come una carta piegata e noi la stiamo stringendo completamente all'interno di questo pugno non riusciamo assolutamente a leggere quello che c'è scritto sul foglio quindi in modo simile alla metilazione del DNA l'aggiunta e la rimozione di determinati gruppi chimici può modificare il grado di densità del nostro DNA e dei nostri istoni attivando o disattivando i geni e fornendo l'accesso per leggerli ora cosa possiamo fare? perché desideravo stasera lasciarvi con delle informazioni pratiche sapete che al di là del test genetico che ripeto è fondamentale desideravo comunque darvi stasera delle indicazioni pratiche che già da domani potete mettere in pratica per iniziare a favorire nel vostro corpo la metilazione del DNA e la modificazione dei vostri istoni in modo tale da iniziare a lavorare su questi aspetti così strettamente connessi poi con la nostra salute il nostro benessere e il nostro invecchiamento precoce che poi pare che sia il problema più grave con il quale medici e scienziati di tutto il mondo si stanno confrontando perché questa è la verità stanno vedendo che l'uomo sta invecchiando in modo velocissimo e non si capisce come fermare questo invecchiamento quindi ricercando una strada per fermare questo invecchiamento stanno proprio studiando tutte queste cose interessantissime e stanno comprendendo che la chiave è tutta nello stile di vita e il nostro stile di vita è diventato uno stile di vita così innaturale da portare il nostro corpo in qualche modo al collasso portare il nostro corpo a un punto di non ritorno dove sta invecchiando troppo rapidamente quindi andiamo a vedere come possiamo modificare la nostra espressione genetica quali geni vengono attivati e quali disattivati e controllare i tasti che determinano la storia della nostra salute la chiave è tutta nell'imparare cosa ottimizza la nostra espressione genetica per la salute e la longevità e cosa spegne la malattia ad esempio sarebbe ottimo che i geni che causano l'infiammazione siano per lo più disattivati nel nostro corpo e che i geni in grado di sopprimere e tenere le cellule degenerate sotto controllo siano invece al contrario superattivi altro esempio sappiamo da tempo che l'esercizio fisico ha degli effetti benefici su tutta la salute dell'uomo e che riduce significativamente il rischio di malattie se fatto regolarmente ma si è scoperto che l'esercizio fisico ha anche dei benefici a livello epigenetico infatti gli scienziati hanno visto che anche solo un singolo periodo di esercizio fisico può aumentare l'espressione genetica di questo SIRT1 un gene della longevità che protegge le cellule dallo stress ossidativo regola il metabolismo del glucoso e dei lipidi riduce l'infiammazione e promuove un invecchiamento sano anche solo un singolo periodo di esercizio fisico figuriamoci se portiamo un po' di movimento nella nostra vita in modo regolare quindi potremmo dire che fare esercizio anche solo una volta può letteralmente modificare l'espressione dei nostri geni ereditati lo stesso vale per il cibo quotidiano che ogni giorno mettiamo in tavola più sano e ricco è maggiormente sosterrà la nostra biochimica ai nostri geni per esempio carenze di acido folico di vitamina B6 di vitamina B12 possono impedire la metilazione del DNA che è stata collegata pensate un po' allo sviluppo di alcuni tumori al deterioramento cognitivo al morbo di Alzheimer che è per questo che conoscere la presenza o meno della mutazione MTHFR può davvero essere cruciale oltre al legame proprio con il cuore con tutte le malattie del cuore quindi andiamo a vedere come puoi lavorare positivamente ogni giorno per ottimizzare tenere come possiamo dire al meglio la tua epigenetica in modo tale da sostenere i tuoi geni e soprattutto aiutarli a funzionare meglio vediamo alcuni primi consigli in modo tale da avere già la possibilità di metterli in atto prima ancora di fare il nostro test genetico vediamo gli scienziati cosa ci dicono come si agisce positivamente sull'epigenetica facendo queste semplici azioni per prima cosa mangia sostenendo i tuoi geni cosa vuol dire? vuol dire che i tuoi tre nutrienti di base proteine, grassi e carboidrati devono essere sempre in equilibrio non ci deve essere uno squilibrio tra loro devono essere nella loro espressione migliore ottimizzando così la trasformazione e l'assorbimento del cibo sostenendo in questo modo l'attività di stomaco e intestino e seguendo i ritmi circadiani dei tuoi organi interni questa è la prima azione per tutto questo trovi ampi ampissimo materiale sul nostro blog siamo super generosi e trovi guide per tutto ciò poi mangia sostenendo il tuo metabolismo conoscendo e applicando tutti i diversi parametri del tuo equilibrio metabolico così da attivare tutte le principali strategie per mantenerlo flessibile attivo in equilibrio raggiungendo più facilmente mantenendo più facilmente il tuo peso forma terzo punto importantissimo conosci e rispetta le tue esigenze genetiche individuali quindi sia dal punto di vista metabolico che dal punto di vista infiammatorio tieni sotto controllo l'infiammazione sistemica il livello e la quantità dei radicali liberi quindi la tua ossidazione e renditi conto se sono presenti carenze di minerali e di vitamine e prenditele cura prendendo i giusti alimenti che possono nutrire il tuo corpo da questo punto di vista poi rendi facile la tua capacità interna di metilazione sostieni la tua metilazione e questo come hai visto come ti ho descritto è valido in qualche modo per tutti perché meno il nostro corpo potremmo dire meno è forte l'attività di metilazione nel nostro corpo più facilmente invecchiamo rapidamente se poi abbiamo la mutazione mthfr questo problema è esponenziale perché la mutazione mthfr esprime la nostra incapacità di metilare e quindi ci spiega perché per noi è così difficile quindi sostieni questa capacità sostenendo la tua capacità di assorbire tutte le vitamine del gruppo B quindi ricordati di prendere le vitamine del gruppo B sempre metilate quindi come metilfolato come vitamina B6 e come vitamina B12 già nella loro forma metilata e poi ricordati trimetilglicina zinco e selenio che sono molto molto importanti per favorire la metilazione nel nostro corpo poi controlla il tuo rapporto genetico con lipidi e zuccheri è tanto importante questo perché se conosci e rispetti la tua sensibilità agli zuccheri e ai lipidi questo ti consente di calibrare quali e quanti zuccheri assumi e quali e quanti grassi portare nel tuo piatto quotidiano se hai problemi di peso se hai problemi metabolici se hai una diciamo una difficoltà delle cellule a ubbidire i comandi dell'insulina se hai una sindrome metabolica è sicuro che il tuo rapporto con gli zuccheri è davvero in difficoltà e anche come impostazioni di fabbrica ovviamente saperlo come test genetico può aiutarti tantissimo in questo modo se tu armonizzi le tue abitudini con quello che hai saputo dal test genetico puoi assorbire completamente i nutrienti evitando di creare infiammazione sistemica e cronica derivante proprio da un'esposizione a glucosio insulina più di quello che il tuo corpo sopporta andando poi ad aiutare il fegato nel suo lavoro di gestione dei grassi perché sono interconnessi e ricordati che tutto lo zucchero che mangi purtroppo nel corpo si trasforma in acidi grassi e viene stoccato proprio come grassi in tutte le cellule adipose questo è il pericolo che non è un pericolo perché non puoi metterti i vestiti che vuoi ma è un pericolo perché così il tuo corpo diventa infiammato invecchia prima e quei grassi sono il luogo ideale dove vengono conservati tutti i virus tutti i batteri, tutte le tossine, tutti i metalli tossici diventano come delle discariche all'interno del nostro corpo pronte in ogni momento a buttare fuori queste tossine ecco perché un eccesso di peso non è un problema estetico ma è un problema di salute poi altra cosa importante controlla il tuo rapporto con i micronutrienti speciali quindi conosci quanto magnesio è bisogno quanto calcio, com'è il tuo metabolismo del calcio e cosa fare com'è il metabolismo della vitamina C, della vitamina B12, della colina che è fondamentale anche per capire perché magari inizi ad avere problemi di memoria in modo tale da aiutare i tuoi geni a essere sostenuti nella tua biochimica interna supplementando e modificando le tue abitudini quotidiane e dando magari dei supplementi necessari periodici proprio per sostenere queste attività che magari possono essere deboli nel tuo corpo infine sostieni e controlla i principali allergeni tra cui glutine, lactose e nickel che è fondamentale perché più li tieni bassi ricordati che questo è valido per tutti più queste tre sostanze sono poco presenti non assenti del tutto ma poco presenti nel tuo quotidiano più in salute starai perché sono comunque sostanze in grado di intervenire in modo pesante sul nostro sistema immunitario e creare difficoltà alle nostre cellule ma andando a scoprirlo con il test genetico puoi veramente aiutare a tenere sotto controllo l'espressione genetica di questi stessi geni e a minimizzare i loro effetti negativi bene, andiamo a vedere andiamo a vedere ora come possiamo effettuare questo test genetico unico come si fa? il test genetico Sauton che è assolutamente unico nel panorama internazionale con il suo ricco, dettagliato e chiarissimo report puoi ordinarlo comodamente a casa tua ti basta visitare il nostro shop e lo vedrai pubblicizzato addirittura in prima pagina in occasione di questa diretta ebbene sì fino a domenica 9 giugno abbiamo deciso di offrire uno speciale sconto di 20 euro sul test per averlo ti basta visitare la pagina prodotto e lasciare il tuo indirizzo email riceverai un codice sconto personale da inserire nel carrello prima dell'acquisto quindi mi raccomando non devi fare altro che visitare la pagina inserire il tuo indirizzo email e riceverai questo codice sconto sulla tua email direttamente una volta che avrai effettuato l'ordine ti arriverà a casa in pochi giorni un comodo e pratico kit facilissimo da usare per prelevare un campione di saliva e rispedirlo gratuitamente al laboratorio nel giro di 10 giorni riceverai il referto direttamente sulla tua casella di posta elettronica nel totale e completo rispetto della privacy non entra non entriamo noi in tutta questa faccenda per cui il tuo report arriva a te ora quali sono le principali azioni pratiche da mettere in campo fin da domani andiamo a ricordarle insieme proprio per aiutare a minimizzare l'invecchiamento l'infiammazione prima ancora di effettuare questo test che ora hai occasione di poter fare anche con un costo agevolato innanzitutto aumenta i nutrienti che supportano la metilazione quindi ricordati proteine fresche e sane vegetali freschi e soprattutto verdi sono fondamentali per la metilazione frutti rossi e frutta ricca di vitamina C erbe e spezie naturali questi sono gli alimenti che maggiormente supportano la metilazione e ricordati poi i grassi per poterli assorbire evita gli alimenti che contribuiscono al danno genetico e alla disfunzione sono i ladri i ladri che vanno a rovinare il nostro meraviglioso corpo quindi abbiamo lo zucchero che è estremamente pro-invecchiamento oltre ad essere pro-infiammazione nutre le cellule tumorali e i batteri intestinali cattivi e causa la disfunzione metabolica e lo stress sedativo tieni basso e soprattutto non di consumare ogni giorno i derivati del latte soprattutto industriali perché sono spesso un fattore scatenante significativo di infiammazione sono stati collegati a malattie degenerative a malattie autoimmuni al diabete di tipo 1 non è il grasso il problema di questi alimenti è la parte proteica che è fortemente la caseina che è fortemente pro-allergia e poi sono tutti i fattori di crescita presenti nel latte gli antibiotici che danno fastidio al corpo e poi i cereali moderni in particolare il grano non sono più gli stessi che mangiavano i nostri nonni sono spesso errorati con erbicidi come il glifosato sono collegati purtroppo anche loro alle malattie degenerative alle malattie renali al linfoma ai danni ai batteri intestinali altra azione importantissima consuma fonti proteiche di qualità quindi le proteine sono fondamentali per prevenire la sarcopenia che è la perdita di massa muscolare che è comune con l'invecchiamento poi le proteine te lo dico sempre saziano migliorano direttamente la metilazione e rallentano l'invecchiamento cellulare tenendo il corpo potremmo dire lontano dall'infiammazione quindi scegli proteine animali ricche di nutrienti come uova allevate al pascolo allevate diciamo a terra o comunque in modo libero carne da pascolo allevata ad erba pesce fresco non allevato 8 porzioni di proteine vegetali sane vai a portarle nella tua vita in modo quotidiano soprattutto ti ricordo sempre inizia dalle proteine il tuo pasto in modo tale da digerirle meglio e da prenderne la giusta quantità poi concedi al tuo corpo una pausa tra i pasti questo è fondamentale non mangiare per alcune ore prima di andare a letto ricordati che favorisce un sono migliore che è essenziale per rallentare l'invecchiamento e dà al corpo il tempo per riposarsi e ripararsi attraverso tutti i processi come il il riciclaggio e il rinnovamento cellulare quindi l'autofagia e la riparazione del dna quindi pensa quante miracoli accadono quando salti o alleggerisci la tua cena anche il digiuno da 12 a 14 ore tra la cena e la colazione ad esempio quindi non mangiare dalle 18 19 fino alle 7 o alle 9 del mattino attiva i geni che riducono l'infiammazione e impedisce alle cellule di trasformarsi in cellule zombie così li chiamano che chiamano gli scienziati cioè cellule che derivano da un accorciamento dei telomeri e danno al dna che smette in qualche modo di dividersi e rilascia invece molecole infiammatorie poi esercitati da 4 a 6 giorni a settimana sebbene l'esercizio fisico come dire sia comunque se ne parla e incredibilmente ricordati che incredibilmente associato alla metilazione del dna e al buon funzionamento del nostro corpo e al rallentamento del declino e dell'invecchiamento quindi fai delle piccole sessioni di allenamento anche solo da 20 30 minuti con esercizi aerobici e poi cammina 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 che è fondamentale per proprio per muovere tutto il tuo corpo e per far muovere la circolazione massaggiando proprio la pianta dei piedi poi allenati anche un pochino con magari piccoli pesetti inizia con in una palestra poi impara anche a farlo da solo così da avere da preservare la tua massa muscolare magra impara a gestire lo stress quotidiano anche questo importantissimo perché più siamo stressati più favoriamo l'invecchiamento cellulare e più accorciamo i nostri telomeri e quindi è questo implicato come dire il livello di stress è sempre collegato a tutte le malattie croniche e sicuramente rallenta l'aspettativa di vita di quasi tre anni per cui prendi considerazione di fare un po di yoga di portare la meditazione nella tua vita di proprio di darti dei periodi momenti anche brevi piccoli momenti di tregua dal tram tram quotidiano nella tua giornata porta questi piccoli momenti non li sottovalutare perché sono fondamentali sono davvero una boccata d'aria fresca che tiene basso e minimizza il tuo stress e poi integra alcune sostanze che sono particolarmente utili per ottimizzare la nostra genetica e per favorire la metilazione del dna innanzitutto la vitamina d3 che è fondamentale e impara ad a dartela nel migliore dei modi quindi duemila unità internazionali al giorno non di più ma tutti i giorni questo è il modo migliore per assorbirla gradualmente ma sempre più e ricordati di associarla periodicamente anche alla vitamina k2 con prendendole non in associazione insieme perché in quel modo sarebbero disturbate l'una con l'altra ma una la prendi magari al mattino e l'altra e la vitamina k la prendi alla sera poi mi raccomando i probiotici perché è stato dimostrato che lavorare sull'intestino può veramente cambiarti la vita e tutto nasce da lì dalla tua capacità di assorbire gli alimenti che mangi e quindi aggiungi probiotici di qualità nella tua vita e poi sicuramente aggiungi periodicamente dei supplementi di vitamina b che quasi sempre carente in tutti ma nella sua forma metilata così che il tuo corpo possa assorbirla al meglio questi sono i consigli che desideravo darvi stasera questa è l'overview alla vostra alla vostra genetica che mi sembra proprio giusto il minimo sindacale che tutti dovrebbero conoscere questo è quello che mi piace ecco quando qualcuno mi dice qual è la tua missione di vita certe volte il mio meraviglioso figlio gabriel col quale immaginiamo anche il futuro di o in qualche modo l'eredità che io desidero lasciare al mondo visto che ormai lavoro da quasi 40 anni quindi è chiaro che uno per quanto lavora a rallentare l'invecchiamento deve comunque iniziare anche a pensare a un'eredità cosa mi piacerebbe lasciare ecco questo sento che un po' anche la missione della mia vita quello di radunare raccogliere codificare e spiegare quali sono le conoscenze di base semplici il minimo sindacale che tutti dovrebbero sapere per riuscire ad avere la propria vita maggiormente nelle proprie mani riuscire a prendersi cura maggiormente di se stessi così da poter sostenere la vita e lasciarla esprimersi nel migliore dei modi perché poi la missione di ognuno di noi è quella di esprimere noi stessi nel migliore dei modi ma se la nostra se la navicella in cui siamo intrappolati che poi è il nostro corpo non riesce ad essere in equilibrio ovviamente tutte le belle idee tutte le potenzialità tutti i desideri che abbiamo tutte le belle cose che ci raccontiamo diventano difficili da esprimere quindi questa è un po' la mia missione quella di spiegarvi in modo semplice tutto quello che dovrebbero sapere tutti e che dovremmo studiare nelle scuole sento che mi piace farlo perché penso che sia molto utile e perché mi piace essere semplice questo non vuol dire che non studio però mi piace dire poi le cose in modo molto molto semplice che tu possa capirle subito e quindi siamo in chiusura di stasera vedo che avete fatto tante 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 domande che bello volevo comunque mantenere questa questa diretta non troppo lunga così che domani la puoi risentire te la puoi andare a riascoltare e la puoi anche come dire puoi farne tesoro e portarla nella nella tua vita e direi che che tutte le tutti i nostri coach i meravigliosi coach vi stanno rispondendo al meglio quindi Maria Pia Festini che ringrazio tantissimo Mila Grazzini che vedo super 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 in pole position per darvi tutte le informazioni e che ringrazio tanto di avermi assistito in questa in questa serata e mi andrò a rileggere tutte le vostre domande domani così da se se mi accorgo che qualcosa è rimasto non risolto ma vedo sto guardando siete stati tutti quanti molto molto come dire sono state fatte tantissime risposte quindi direi che non sono rimasti dubbi ma domani andrò a riguardare ulteriormente e quindi andrò a guardare e se vedo che qualcosa dovesse restare irrisolto mi muoverò a risponderne subito ti ricordo importantissimo prima di lasciarti stasera ti ricordo il link per ordinare il test genetico e chiedo ai nostri coach di riportarlo anche qui nella chat desautonapproach.it shop e all'interno di questa pagina trovate subito il test genetico già immediatamente in alto nella pagina di acquisto ti ricordo potrai ricevere lo sconto di 20 euro valido fino a domenica 9 giugno per tutti gli ordini che arriveranno fino a domenica 9 giugno c'è la possibilità di avere questo bello sconto importante e ti basterà semplicemente nella pagina del prodotto aggiungere la tua arrivare nello spazio dove c'è la possibilità di aggiungere la tua email e a quel punto riceverai un codice sconto personale che potrai inserire nella pagina di acquisto bene non mi resta che salutarti ringrazio anche Ivana presente qui quindi Ivana, Maria Pia e Mila grazie 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 per tutto il lavoro che avete fatto stasera un abbraccio grandissimo a tutti vi voglio bene vi auguro tutto il meglio spero di che possiate fare tesoro di queste informazioni ti ricordo che rimane salvato qui nel nella pagina questa conferenza e che da domani la troverai anche su youtube e un carissimo saluto a tutti e un abbraccio di meravigliosa vita ciao grazie 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 a tutti.